Taranto è una città che sta morendo, basta fare un giro nel borgo, non nelle periferie, nel centro del centro. Ci troviamo in via Pupino, a due passi da Piazza Immacolata e vogliamo farvi vedere cosa sta succedendo, attività commerciali che hanno chiuso, chiudono e continuano a chiudere, perché parliamo di un territorio che non è affatto appetibile, parliamo di un'amministrazione comunale che non pone le condizioni perché ci possa essere una rinascita, altro che stiamo seminando la rinascita, qui stiamo seminando la chiusura, stiamo seminando i semi della morte di questa città. Guardate, proprio ve lo dimostro, negozio chiuso, affittasi, quest'altro locale vende qui, ma stiamo parlando di locali su uno stesso marciapiede, uno attaccato all'altro, guardate qui, altra vetrina tristemente chiusa, vendesi, altra attività chiusa e procediamo ancora, qui un'altra attività che ha chiuso, tutto in presa di rete, chiuso, altra attività chiusa, ditemi voi di grazia, questa è una città morta, morta e il sindaco Melucci sta raccontando favole, sta raccontando chiacchiere, ma potremmo anche spostarci poi dal lato opposto. Ecco quell'altra attività commerciale dove era scritto Joyce, affittasi il locale, cioè un'amministrazione che va a spremere di tasse gli operatori commerciali, le attività commerciali, che va a subissare commercianti e cittadini con il discorso dei parcheggi a pagamento ovunque, in tutte le città italiane, anche compresi i centri storici, c'è l'alternanza di strisce blu e strisce bianca. Qui si creano, si stanno creando, si sono creati tutte le condizioni per rendere la vita impossibile ai cittadini e nella fattispecie alle attività commerciali, ai commercianti ed è ovvio che già la crisi di per sé, e quindi parliamo di un fatto nazionale, ma questa crisi viene ancora più acuita, peggiorata da un'incapacità, da un'inerzia di questa amministrazione, ma non solo inerzia, ma da una serie di politiche che, ripeto, soffocano il commercio. Ma poi parliamo di come può rifiorire il commercio se la città è ridotta ad un letamaio? Come possono rifiorire le attività commerciali se si trovano, affogano nell'immondizia, nella sporcizia? Come possono rifiorire le attività commerciali se il turista scappa da Taranto, vede lo schifo? Come può una qualsiasi attività, un ristorante, rendersi appetibile se dinanzi a chi viene da fuori, oltre ai tarantini stessi? Ma consideriamo il turista se vede la città che è l'Ercia. Ma stiamo scherzando? E questi poi, signori cari, sono i risultati, perché non è un caso, perché può chiudere un'attività, due attività, tre attività, ci può essere il commerciante che non sa fare il suo mestiere e chiude, può capitare, per carità di Dio. Ma quando c'è una moria totale, generale e generalizzata, e beh, signori cari, e qui bisogna porsi pure il problema, non è che è un caso, questa è la realtà di Taranto. E allora quando io sento queste puttanate, queste stronzate che vengono dette, stiamo seminando la rinascita, il meglio viene adesso, e questa è la rinascita, stiamo seminando la morte delle attività commerciali di Taranto. E ditemi se non è vero, perché poi cosa significa questo? Che chiude l'attività commerciale, chiude il datore di lavoro, l'imprenditore, ma se ne vanno a casa i dipendenti. E la tavola dei dipendenti a pranzo e a cena rimane vuota, vacante, come si dice a Taranto. Questo è Taranto, signori cari. E concludo, vi ho parlato del borgo che dovrebbe essere la zona più favorita, più bella per le attività commerciali, un po' come la sala da pranzo, una volta il salone era il biglietto da visita. Certo ragazzi, forza Taranto sempre, e mandiamo via Melucci per liberarla. Quindi se questo che è il biglietto da visita è ridotto così, figuriamoci tutto il resto. Ma stiamo scherzando. Prego? No, no, no. Vada via Regina Elena, dove praticamente la vergogna è per la spazzatura che vaga in continuazione. E poi le attività commerciali chiudono, cosa ci si aspetta? Grazie signora. Vedete, questo è il sentiment, come lo chiamava l'ex assessore Manzulli, il sentiment, il sentimento popolare, la gente che si è rotta le scatole di questa amministrazione, perché è un'amministrazione che sta vessando i tarantini. E Melucci deve andare via per il bene di Taranto.